L'attrice è bella quando è versatile, in realtà forse c'è un motivo per il quale si sceglie di fare un mestiere come quello dell'attore secondo me, secondo me perché si cerca qualcosa di diverso dentro di noi e questo ruolo della processa mi è venuto bene, secondo me perché ho provato ad essere così, in quel modo, la bellezza di interpretare il ruolo secondo me è di provarsi ad essere quello che non si è, altrimenti è troppo facile fare un ruolo che ti somiglia e forse non ti dà tanta soddisfazione neanche, ti dà quiete, tranquillità e a me non piace la tranquillità, sfide sempre e non lasciarsi abbattere mai, io non mi faccio abbattere da niente e da nessuno, come tutti la vita ci mette alla prova, ma secondo me è importante e fondamentale avere delle risorse interiori che sono quelle di guardare sempre avanti, di guardare la vita con un sorriso, di farti piacere la vita e la gente che fa parte di questo mondo.